Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi siamo qui nel day after, infatti ieri abbiamo visto la release ufficiale dei Toti, è stata confermata la squadra, rispetto al leak abbiamo visto che tra gli attaccanti manca Lionel Messi ma abbiamo Kylian Mbappé, a mio modo di vedere anche in maniera abbastanza giusta, e Neymar a questo punto secondo me è il candidato più papabile a essere il dodicesimo Toti. Il dodicesimo Toti che verrà rilasciato venerdì prossima assieme alla squadra completa, quindi occhio, staremo a vedere quello che accadrà. Abbiamo visto quindi come gli attaccanti sono Cristiano Ronaldo, il buon Lewandowski e proprio il buon Kylian Mbappé, ma oltre alla release degli attaccanti c'è stato anche il rilascio di due carte speciali. Una è quella di Luis Suarez Toti Moments, mentre per quanto riguarda la seconda e forse più interessante è quella di Ribéry Toti Flashback. C'è stato tanto rumore attorno a queste due carte, quindi ci andiamo ad analizzare questi due giocatori e vediamo se effettivamente ne vale la pena. Quindi passiamo subito sulla schermata dove ci attende proprio il pistolero Luis Suarez, un metro e 82 di giocatore con un work rate di alto normale, quindi perfetto per quanto riguarda la prima punta, piede destro, 4 di skill e 4 di piede debole. Quindi diciamo che per quanto riguarda questa prima dato statistico siamo tutto quanto in regola insomma, 4-4, alto normale, per un attaccante ci sta. Passiamo ad analizzare però quello che è il reparto statistico e qua possiamo vedere che iniziano a sorgere i primi problemini. Di fatti abbiamo 81 di accelerazione e 77 di velocità scatto per un attaccante comunque di un metro e 82 con 89 di forza, sicuramente rendono questo giocatore non proprio un fulmine di guerra. Di conseguenza soprattutto per quello che è il meta attuale basato su filtranti eccetera eccetera, questo in campo aperto non è che prende questo gran vantaggio sui difensori avversari, quindi questo mi fa storcere un po' il naso. Per quanto riguarda le statistiche di tiro, beh chiaramente parliamo di una carta incredibile con 96 di finalizzazione abbinato addirittura a un 93 potenza tiro, tanta roba anche per quanto riguarda i passaggi, 89 di corto e 83 di lungo con 92 di effetto. Ottime anche le statistiche di dribbling anche se quell'83 di agilità mi preoccupa perché vi ripeto è una carta di un metro e 82 quindi né troppo alta né troppo bassa, però questo metro e 82 abbinato ad un 83 di agilità e un 89 di forza tendono un po' ad appesantirlo, oltre che body type di Suarez è anche un body type un po' particolare, quindi occhio. Poi per quanto riguarda equilibrio, reattività, controllo palla, insomma siamo tutto nella norma, statistiche al top, addirittura anche a grissità 91 quindi se la partita si mette male sto Suarez si mette a mordere gli avversari, è vero scherzo. Comunque parliamo di una carta molto molto interessante, ripeto io non l'andrei a utilizzare da punta, magari si potrebbe pensare a utilizzarlo da C o C, magari in un 4 e 3 1 o perché no in un 4 1 2 1 2. Il discorso fondamentale per Suarez è un altro, ossia che è una carta obiettivo per cui è una carta gratuita e sapete io come la penso, finché è una carta gratuita per me vale sempre la pena di sbloccare, quindi il risponso finale su questo Suarez è sbloccare assolutamente sì, utilizzare ni nel senso probabilmente solo da C o C perché da punta insomma andrei ad evitare. Andiamo a vedere il secondo giocatore che è Fuankuibeoi, giocatorone insomma che non ha bisogno di presentazioni, 1 metro e 70, rendimento normale normale e qui già un primo problemino, piede destro, mosse abilità 5, piede debole 5 quindi schilla, destro sinistro, veramente tanta tanta roba sotto questo di punto di vista. Per quanto riguarda poi invece le statistiche abbiamo un 91 di accelerazione e un 89 di velocità scatto che lo rendono veloce ma non il più veloce in circolazione quindi anche qua mi aspettavo qualcosina in più. Anche per quanto riguarda le statistiche di tiro, un 84 di finalizzazione e un 85 di potenza tiro a dispetto del 5 piede debole e tutte le altre statistiche secondo me non lo pongono tanto nelle condizioni di poter fare la seconda punta ma lo relegano più al ruolo di esterno di COC perché quella potenza tiro potrebbe farsi sentire in fase di appunto conclusione finale. Abbiamo poi passaggio corto 89 e lungo 83 con effetto 89 quindi insomma al suo posto tutte le statistiche di passaggio, tanta tanta roba anche le statistiche di agilità, equilibrio, reattività, freddezza, dribbling eccetera eccetera il tutto abbinato a un 58 di forza per cui questa carta qua non ne esce troppo appesantita anche se anche qui il body type di Ribery è un body type un po' particolare quindi occhio al buon Ribery. Il giudizio finale che io do su questa carta è uno, ossia parliamo di appunto un giocatore SBC che costa quasi un milione ragazzi, un milione di giocatore per un giocatore della serie A che fondamentalmente insomma andate intanto probabilmente morirò in diretta bene lo andate a sbloccare ma probabilmente non vi rimane voglio dire per tutto l'anno anzi vi ripeto probabilmente non certo a statistiche da top ma già ora per molto meno ci sono alternative valide ad esempio vi ho preso dei giocatori che sono diciamo dei suoi competitor e abbiamo il buon Insigne e il buon ad esempio Deulofeo che era gratuito certo parliamo di giocatori che non hanno 5-5 ma hanno entrambi 4-4 però voglio dire hanno anche loro tutte le statistiche al posto giusto come potete vedere certo Ribery è un giocatore superiore ma siamo sicuri che ne vale la pena andare a buttare tutti questi soldi su questa carta? occhio secondo me la risposta è no nonostante ci sia tanto hype eccetera 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 quindi magari se si hanno uno scambiabile e si riesce ad abbassare il prezzo magari a un 2-300k anche se comunque dovete pensare che state buttando quello che non buttate in credito buttate in non scambiabili e comunque non so se ne valga la pena con le SBC che possono uscire e che ci sono in giro quindi occhio a questo Ribery se proprio lo si vuole sbloccare ruolo consigliato per me C o C o esterno da punta potrebbe risentire della finalizzazione della potenza tiro un po' scadente se avete giocatori alla Deulofeo che era soprattutto gratuito io Ribery onestamente lo bypasserei e conserverei i crediti per altro inoltre un'altra cosa che volevano farvi notare al volo prima di salutarci è che comunque i toti secondo me quest'anno hanno ricevuto un upgrade che non è insomma pari a quello degli altri anni ma aspettavo innanzitutto di vedere delle carte 99 cosa che non è accaduta e probabilmente questo è giustificato al fatto che vogliono dare importanza ai tots perché spesso e volentieri uscivano dei tots che erano dei doppioni dei toti quindi vedete per esempio Ronaldo rispetto alla carta 94 prende per dirvi in agilità solamente un boost di più 4 un più 2 di finalizzazione un più 3 di potenza tiro certo dici tu è ok perché Ronaldo 94 ci ha dato delle statistiche incredibili esatto quello è esattamente il problema però voglio dire il boost secondo me potrebbe non giustificare tutti quei crediti di differenza quindi occhio secondo me l'unico che effettivamente ha avuto veramente un boost significativo è il buon Mbappé che probabilmente andrò a provare a breve difatti se andiamo a vedere riceve veramente tanta tanta roba 7 in più di potenza tiro 4 in più di finalizzazione 6 in più di agilità 5 in più di equilibrio insomma statistiche che sono veramente clamorose poi insomma c'è i capelli blu che ve lo sta di affatto nulla ragazzi quindi per questa breve analisi è tutto vi ricordo di lasciare un like e un commento fatemi sapere se avete intenzione di sbloccare il ribeligio l'avete sbloccato l'avete provato che ne pensate vi ricordo in descrizione tutte le info per le live giornalite sulla piattaforma viola ragazzi iscrivetevi al canale che stiamo andando una bomba e a me non resta altro che salutarvi ciao